Ciao tifosi! Guardare le partite del Palermo sta diventando di un frustrante, incredibile, perché ci sta a perdere nel calcio, ma quando tu vedi che un avversario comunque non dà fastidio alla tua squadra e invece la tua squadra non attacca o comunque non offende in maniera incisiva, vuol dire che sono tre punti buttati all'aria. In questo caso non è una sconfitta e un pareggio comunque positivo, visto che veniamo da una vittoria contro il Benevento dopo tante sconfitte, quindi rimaniamo con risultati positivi, però questa è una partita che potevamo tranquillamente vincere perché sì, è stata combattuta, è stata equilibrata, diverse occasioni si sono verificate soprattutto nel primo tempo e quindi poteva andare in vantaggio il Palermo come poteva andare in vantaggio la squadra avversaria, ovvero il Como. Peccato che poi nel secondo tempo la squadra rosa nero decide improvvisamente di spegnersi, ma andiamo per gradi. Sto parlando naturalmente di Palermo-Como, quindi la squadra rosa nero torna nelle mura di casa per giocare questo match contro una squadra che si trova nelle sue stesse zone di classifica nella formazione c'è un cambio abbastanza rilevante, infatti accanto a Brunori non gioca Di Mariano ma Vito, quindi finalmente viene proposto come titolare l'attaccante che è venuto comunque per dare una mano alla squadra di Corini che però entrava sempre in corso d'opera, faceva ben vedere quando veniva utilizzato ma non veniva ma è schierato come titolare. La formazione del Palermo è quindi composta da, in porta, Pia Celli, in difesa Nedelciaru, Bettele e Mateju, a centrocampo Di Mariano, Gomez, Segre, Damiani che torna da titolare e sulla sinistra invece gioca Sala. In attacco, come vi dicevo, Brunori è accanto, Vido, quindi torna Sala, nonostante l'infortunio che aveva avuto nell'ultimo match, viene confermato Damiani e appunto questa new entry di Vido, viene anche confermato Bettella, non vediamo più Marconi. Non sta sfigurando Bettella, però Marconi mi sembrava un difensore sul quale il Palermo puntava e di cui avevamo bisogno. Però diciamo che così per ora sta scegliendo il tecnico, quindi per ora Fesserie e Grossolano ne sta facendo. Come vi dicevo, la partita il più delle occasioni le fa vedere nel primo tempo. Un primo tempo in cui il Palermo ha diverse occasioni, prende anche un palo e anche una doppia occasione con Brunori che tira prima addosso a un giocatore del Como e poi è il portiere a fare la parata. In una determinata circostanza sembra quasi che il Palermo sta facendo un assedio, però nelle ripartenze il Como dimostra di saper pungere, secondo me anche per demerito del Palermo, perché sinceramente quando il Como ripartiva in contropiede c'erano buchi un po' dappertutto. Ecco, dobbiamo ringraziare tantissimo il recupero di Di Mariano su, se non erro, Mancosu, perché se no Mancosu se ne andava da solo contro Pigliacelli. Quindi diciamo che la difesa lo sappiamo che andrebbe rivista e probabilmente ha bisogno di qualche acquisto, perché siamo scandalosi. In difesa quando attaccano le squadre avversarie può succedere veramente di tutto. Quindi una partita che nel primo tempo abbastanza equilibrata, Mancosu sfiora il gol diverse volte con dei tiri interessanti da fuori e quindi si conclude sullo 0-0. Un primo tempo dove in verità si è visto poco Vido. Vido ha fatto solo due tiri in porta molto molto deboli e facili da parare. Quindi si è visto poco il nuovo compagno d'attacco di Brunori. Poi per il resto Gomez ha fatto una bella partita anche se ha perso un pallone molto sanguinoso a un certo punto. Per fortuna la situazione offensiva del Como è stata fermata. Damiani a me sinceramente non mi sta facendo impazzire, non vedo dei cambiamenti con la sua presenza in campo. Di Mariano oggi gran bella partita, non solo per il recupero che ha fatto, ma ha fatto una partita di sacrificio, ha fatto un po' il valente della situazione in questo caso, perché saliva scendeva, aiutava in difesa e metteva palloni dentro. Grande partita anche da parte di Sala che riusciva a saltare l'uomo e ha messo in difficoltà spesso la squadra avversaria e metteva palloni interessanti dentro l'area di rigore. Purtroppo però arrivavano questi palloni dentro l'area di rigore e c'era sempre Brunori, scondato da giocatori, non sapeva cosa fare e non appoggiava quasi mai dietro per magari un tiro di un centrocampista in appoggio, ma cercava di destreggiarsi in mezzo alle maglie avversarie per trovare lo spazio per la conclusione. Il secondo tempo in pratica è quasi l'opposto del primo, perché è come se la fiammella si fosse spenta a causa di un colpo di vento. Il Palermo smette di giocare, non offende più come il primo tempo e il Como alla fine fa la sua partita che consiste nel sfruttare le ripartenze e rischia di farci tanto male soprattutto nei minuti di recupero. E alla fine la partita finisce sullo 0-0 anche con un episodio abbastanza dubbio, dove praticamente abbiamo Brunori che cade per terra in area di rigore, probabilmente toccato da un difensore del Como rivedendo le immagini. Sembra che ci sia il tocco, certo non facile da capire da parte dell'arbitro se ci sia o meno il rigore, però ora abbiamo il VAR, non c'è stato neanche un check, una cosa che mi ha lasciato abbastanza perplesso, perché è vero che eravamo nei minuti secondi, nei secondi finali del match, ma questo non significa nulla. Comunque tu devi controllare se c'è una situazione così importante e così comunque rilevante perché può cambiare il risultato del match, c'è neanche un check del VAR, incredibile. Quindi la partita finisce 0-0, un punto per entrambe le squadre, partita equilibrata combattuta, ma che vi ribadisco, noi giocavamo in casa, avevamo il pubblico dalla nostra parte che ha spinto sempre i nostri giocatori e invece la squadra a un certo punto è scomparsa, se ne sono perse le tracce. Corini prova a metterci mano, fa entrare Soleri, fa entrare Stulaz, Saric, Valente, ma serve a poco, serve a poco perché non riescono a dare brio alla manovra d'attacco e quindi bisogna secondo me sperimentare qualche altro modo per rendersi pericolosi quando si attacca perché in troppe circostanze Brunori rimane isolato e in queste occasioni rare in cui vengono concessi palloni tra i piedi cerca quasi sempre l'iniziativa personale e questo non va bene perché Brunori ci ha abituato ad avere un altruismo non facile da vedere in attaccanti di questo tipo, certo l'abbiamo visto in passato in alcune circostanze il pallone non lo passa e prova a tirare ma ci sta, gli attaccanti vogliono cercare di fare gol ma in questo ultimo periodo vedo che cerca sempre la giocata personale e questo non va bene perché non è sempre la soluzione migliore ma quando vedi che la squadra non riesce ad attaccare, quando vedi che ti arrivano pochi palloni tu cerchi di risolvere tutto con le tue doti ma purtroppo insomma non è sempre la situazione che ti può mettere nelle condizioni di mettere la palla dentro noi vediamo da una vittoria a Benevento aveva fatto gol Brunori però diciamocela tutta ragazzi anche quella partita è stata giocata non proprio bene e il gol è arrivato anche per una mezza papera di Paleari è stato bravo Brunori a tirare ma se ci fate caso il tiro è abbastanza centrale e Paleari tarda a scendere giù e il pallone entra dentro quindi quindi non so che altro dire vi fatevi sapere voi nei commenti la vostra io diciamo che sono molto dispiaciuto per come gioca il Palermo perché comunque ha dei giocatori che se messi nelle condizioni di far bene possono dire loro ma io vedo che in questa struttura di gioco tanti giocatori ne stanno risentendo vedo che non si sfrutta più l'esplosività di Bro che in alcune circostanze aveva mostrato di essere molto bravo nel superare gli avversari e nell'inserirsi non si sfrutta più questa sua caratteristica Valente con le sue galoppate non viene più utilizzato c'è qualcosa da rifinire secondo me secondo me Brunori non può stare tutto questo tempo solo in avanti con i lanci lunghi non risolviamo niente poi se quando cerchiamo Brunori lui si trova proprio sulla fascia e cerca di mettere i palloni dentro siamo proprio a mare perché poi alla fine chi c'è al centro dell'area di rigore? Segre? ok Segre ha dimostrato di essere comunque portato per colpire di testa ma Brunori dovrebbe stare lì in mezzo e invece va sempre sull'esterno per mettere i palloni dentro comunque fatemi sapere la vostra, lasciate un mi piace, iscrivetevi e vi rimando nel prossimo video sempre Forza Palermo e stringiamo i denti ciao tifosi